L'unità operativa di pediatria presso l'ospedale Luigi Curto di Polla è in emergenza. Due soli medici a disposizione per un reparto che necessita, per essere pienamente operativo e raggiungere il massimo dell'efficienza, di sei unità mediche. Il trasferimento del dottor Guercio dal reparto di pediatria di Polla al presidio ospedaliero di Battipaia ha creato non poche problematiche. Il dottore Guercio è stato trasferito dall'ospedale di Polla all'ospedale di Battipaia. Speravamo io in primis che ciò non avvenisse in questo periodo nel quale siamo particolarmente presi in reparto anche con un notevole carico di lavoro. Comunque il trasferimento c'è stato e abbiamo anche avuto la possibilità di avere il dottore Guercio diciamo a mezzo servizio nel senso che fa parte dell'organico di Battipaia però verrà a svolgere delle ore anche a Polla. Tutto ciò sembra aver risolto il problema. Non è così. Il problema è molto più grande di quello che si possa pensare. Un reparto ospedaliero per poter funzionare e per poter offrire dei servizi all'utenza deve avere un organico, un organico non dico un organico pieno con sei sanitari, ma un organico minimo di quattro sanitari che possono garantire una continuità assistenziale nell'ambito del servizio svolto. Noi dobbiamo assicurare ai neonati del nito e ai bambini ricoverati in reparto una continuità assistenziale. Continuità assistenziale significa che sempre le stesse figure debbono poter vedere questi bimbi dall'ingresso in ospedale alla dimissione. Li debbono poter vedere e non solo ma queste persone, questi quattro medici dell'organico, questi quattro medici di ruolo nel reparto debbono poter parlare tra loro, debbono trarre delle conclusioni da segnali, sintomi che si vedono nei giorni di degenza e quindi fare una diagnosi finale e assicurare il migliore servizio possibile all'utenza. Quando l'organico da tre unità che eravamo, passa a due unità, già si riduce drasticamente la possibilità che medici di ruolo, quelli che debbono garantire la continuità, non la possono fare, non la possono coprire perché noi dobbiamo lavorare ma per 36 ore settimanali. Due medici non coprono l'intera settimana, quindi significa che non è possibile fare quello che abbiamo detto fino adesso. Ora abbiamo avuto l'aiuto da parte dei colleghi di pediatria di base che io ringrazio perché ci consentono di mantenere aperto il reparto nel senso che svolgono un ruolo coprendo le notti, coprendo i fine settimana, quindi un ruolo importante al fine di garantire il pronto soccorso pediatrico, al fine di poter trovare sempre un pediatra disponibile di giorno e di notte perché ci tengo a precisare il nostro reparto è aperto dall'1.1 al 31.12 24 ore al giorno e allora questi colleghi amici ci garantiscono il pronto soccorso ma non ci possono garantire altro, non ci possono garantire quella continuità assistenziale di cui parlavamo prima. Il fatto che il dottore Guercio sia stato trasferito e che ha determinato la riduzione a due unità è assolutamente incompatibile con un buon funzionamento del reparto. Bisogna al più presto far sì che una o due unità vengano a ricoprire un posto di ruolo nel reparto di pediatria del presso ospedaliero di Polla. Solo così possiamo ritornare a quelle che erano le condizioni precedenti.